Ciao a tutti, come usare il gioco di sguardi nella seduzione? Lo sguardo è importante, molto importante nella seduzione, perché è come se fosse quasi un prolungamento di noi stessi, un prolungamento di quello che è il contatto fisico fondamentalmente, anzi con lo sguardo riesce a penetrare molto di più rispetto a un contatto fisico paradossalmente. Infatti si dice penetrare con lo sguardo, uno sguardo penetrante, quasi come lo sguardo fosse un fallo che si infilasse dentro. Perché lo sguardo, diciamo, arriva, scruta anche dentro la tua anima, non si ferma alla parte fisica. E allora devi usare il gioco di sguardi nel flirt, nella seduzione, per mandare degli stimoli. Quindi lo sguardo deve essere amiccante, deve essere uno sguardo che è uno sguardo diretto, ma che ogni tanto si distoglie e poi torna diretto. Deve puntare, diciamo, in alcune parti del corpo, è come se mandasse un segnale. Punta in questa parte qua, ti sta mandando un segnale di natura affettiva. Punta in questa parte qua, ti sta mandando un segnale di natura cognitiva, però un po' esoterica, un po' mistica, un po' trascendente, diciamo così, perché va a colpire il terzo occhio. Punta sulla bocca, ti va a indicare un piacere, perché noi nella bocca mettiamo le cose che ci piacciono. Punta in zone erogene secondarie, ti sta dando un segnale, come se ti facesse un massaggio, o un qualche cosa che va a stimolare la tua eccitazione, se vogliamo. Perché lo sguardo può anche essere eccitante. Uno sguardo può coinvolgere, può sedurre, può affascinare, può ipnotizzare. E quindi è importante imparare a usare bene il gioco di sguardi nella seduzione per coinvolgere, per coinvolgere fortemente le persone che ci interessano. Soprattutto il gioco di sguardi è un modo che è un mezzo, diciamo, molto utile per creare subito empatia con l'altra persona, senza neanche parlare. È bastato uno sguardo e lo sedotta. Questo è il pensiero che dobbiamo avere dietro ogni sguardo che mettiamo verso la persona che ci interessa. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!